Deficita 5 a 3 per il Club delle Mamme di cui lei è presidente ma alla fine è poco importa il risultato, l'importante era lo scopo, l'iniziativa, riuscita peraltro? Sì, sicuramente, già avevamo vinto fin dall'inizio, non come Club delle Mamme ma come cittadini canicattinesi perché tutti, sia gli ex giocatori dell'Atletico, sia i soci del Club delle Mamme, i cittadini hanno risposto benissimo con grande affetto e con grande generosità quindi li ringrazio e sono veramente molto contenta E soprattutto è stato un pomeriggio di aggregazione, di socializzazione, di divertimento, visto che c'era anche un po' di pubblico Sì, sì, lo sport è un'attività che aggrega e oggi l'abbiamo dimostrato ancora una volta, anche il signore ci è stato vicino, visto il tempo, tutto si è risolto bene, ancora grazie È stato un bel pomeriggio di sport e anche un po' di emozione per Enrico Ancona Sicuramente è stata una gran bella rimpatriata di questi giovani che avevo io quando effettivamente i tempi erano altri che lo sport era fatto in una maniera straordinariamente spontanea e tutto quanto si faceva con entusiasmo, con tutta la passione che veramente c'è e oltre ciò diciamo vedere questi ex giovanotti, perché ex ragazze che giocavano al calcio vederli adesso riuniti ancora una volta per manifestare questa bellissima riunione di sport e effettivamente ha fatto un grandissimo bene sotto un profilo psicologico e ha fatto rientrare veramente quelle cose belle che tutti i giorni vorremmo avere con gioia Grazie 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 Grazie